C'è la Banca d'Italia che ha un autorevolissimo centro studi, con grande attenzione guardano i dati e hanno visto i dati che chiaramente noi conosciamo perché li guardiamo ogni giorno e quindi non solo noi abbiamo avuto e l'avete visto ieri un riconoscimento come la migliore regione dopo Lemia Romagna ma Lemia Romagna è un programma molto piccolo, è un bel programma pesante perché siamo nelle regioni convergenza quindi Lemia Romagna è più 10%, noi più 8% nell'anno, siamo le due regioni in testa sui pagamenti, sulla parte della certificazione della spesa oggi invece Banca d'Italia ci dà un altro attestato che noi siamo i primi in Italia sulla parte impegni i fondi comunitari sono offresi da una parte la certificazione della spesa, dall'altra parte il lavoro che metti in campo per impegnare queste risorse perché se non ci sono gli impegni poi non ci sarà neanche la spesa quindi noi siamo primi in assoluto sugli impegni, siamo secondi in Italia ma primi tra i grandi programmi e quindi vuol dire che al di là del passato, molto difficile perché partiamo da molti metri indietro centinaia di metri indietro rispetto alle altre regioni, abbiamo recuperato e da due anni siamo i primi in Italia in termini di quello che abbiamo fatto negli ultimi due anni quindi questo è un attestato, è un riconoscimento al nostro lavoro, al lavoro dell'Aggiunta regionale, al lavoro di tutti gli uffici ma non solo dell'Aggiunta regionale, al lavoro straordinario di partenariato con gli enti locali, con i sindacati, con le imprese perché tutto questo lavoro e questi risultati si fanno solo insieme Grazie a tutti